Termina 0-0 tra Latina e Foggia con le due squadre che non si fanno male, ma che non riescono nemmeno a ritrovare il sorriso dopo le sconfitte nel turno precedente. Meglio il Foggia nel primo tempo, mentre nella ripresa è più Latina a cercare la via del gol, ma sono protagonisti i due portieri che evitano il peggio per le proprie squadre. Rossonieri che salgono a quota 5 punti, mentre i Pontini a quota 3, ma restano all'asciutto di vittorie. Brambilla alla vigilia aveva dichiarato di percepire sensazioni positive per la trasferta dei suoi a Latina. È finita 0-0 una partita senza lode e senza infamia da parte dei rossonieri che non hanno trovato la zampata del gol e che ha messo a nudo una certa serilità offensiva. Il Foggia resta dunque nel limbo del centro classifica, ma non ha certamente entusiasmato sul piano del gioco. In avvio è l'undici di Padalini a provarci con un fendente dal limite di Capanni deviato sull'esterno della rete della difesa ospite. Sarà l'unica conclusione nerazzurra dell'intera partita e la prima frazione. Un sussulto con credo dei rossonieri arriva con il corner di Emmausso. Sarinessa anticipa tutti, ma spedisce di testa sulla traversa. La pressione di Pugliesi prosegue, ma senza cuti. Tutt'altra storia nella ripresa con i due portieri a punto che salgono in cattedra. Termina 0-0 al Francioni.